Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Questo sarà un video molto molto breve in cui vi mostro quelli che sono stati i pranzi in questi giorni in cui ho lavorato da casa. Sono delle idee pranzo super semplici, quindi nulla di trascendentale e mi piaceva l'idea di condividere con voi un pochino di quotidianità. Fatemi sapere se il video vi piace, se ne volete altri così sono pronta a registrarli perché il mio menù varia da settimana a settimana. Vi ringrazio per aver guardato il video, vi lascio e ci vediamo al prossimo. Ciao! Grazie a tutti! Qui ragazzi non vi stirano niente? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!